Bentornati su MyFootballJersey. In moltissimi me l'avete chiesta e finalmente è arrivata. Questa è la versione player, quella dei giocatori, della terza maglia della Juventus per la stagione in corso. Questa è la versione player. Avete già visto la versione fan, trovate qui in alto la recensione, questa si conferma una maglia fantastica. Il tessuto è molto diverso, guardate le due recensioni per compararla, però la qualità è sicuramente ottima e tutti i particolari perfetti. Il costo, lo vedete qui sopra, ecco questo costo per questa maglia, un'occasione da non perdere. Se volete qualche informazione in più, o ordinare la maglia, trovate i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché sul sito trovate questa e altre bellissime offerte che vi attengono. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete le misure. Prima però, se volete vedere recensioni come questa tutti i giorni, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Ciao!